Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ho il playmatch diverso allo solito perchè mi scocciavo di cacciare il mio, ho preso quello della mia ragazza che è qui Salve! E vabbè, oggi abbiamo 3 pacchetti vinti al local e scegli tu da dove vuoi iniziare questo vedi che precisione allora aspetta, gira le carte scontentare io vai vai l'ultimo ma che sicuro eh vabbè ora apriamo 2 pacchetti di Ted Hill ma non t'ha niente, è vero ok aspetta ok ok una ultra uh good una ultra bello mettiamo l'acqua poi mi leggo piano piano gli effetti ok passiamo all'ultimo con quanto entusiasmo stiamo facendo questo unboxing eeeh sai com'è monarche è morto monarche è morto partiamo i locali scherzo scherzo e vai uh triamid uh bucopendor mi serviva il terzo eh fai spoiler però eh ehm no combinazione metafosi ok manca un po' di suspense sai fare però mamma mia si si ormai aveva i comuni ooooh parla alla comune ooooh niente e vabbè e vabbè ragazzi questa è la mia ragazza che fa i fail mettete like se pensate che sia una cretina mettetelo ugualmente in tutti i casi no si si vabbè lasciate like, commento, iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto e uuuuuh la tour saluto saluto arrivederci al prossimo video ciao